Il microbiota è l'insieme di batteri buoni che favora il nostro intestino e che determina la singolare risposta alle diete, alle terapie farmacologiche, al nostro stile di vita. Mantenere l'intestino in salute vuol dire non solo favorire una buona evacuazione, ma anche favorire il suo benessere intestinale. Vale a dire che qualsiasi tipo di disbiosi che può essere presente nell'intestino è un indice di un'alterazione, che è fondamentale andare a ristabilire per guadagnare salute. Nel processo di dimagrimento è fondamentale tenere sotto controllo questo aspetto perché un intestino libero e soprattutto un intestino sano ci permette un'adeguata assimilazione di nutrienti, ci permette di far funzionare le nostre cellule nella maniera loro propria, nella maniera più consona alle loro capacità e quindi ci permette di ricavare nutrienti, micronutrienti e soprattutto energia da ciò che mangiamo, evitando che ciò che mangiamo diventi dannoso e diventi un elemento tossico per il nostro corpo e per il nostro intestino.